Francesco Mancini, 51 anni, faccio l'attore perché mi piace, mi diverte, mi appassiona. Io ci tengo molto a quel anello, lei me l'ha succhiato. E non le capita spesso che glielo succhiano, vero? L'anello. Sì, sì, apprezzo anche questo trionfo di doppi sensi, anche io sono molto ironico, però sull'anello c'è il nome di mia moglie, la data delle nozze, ecco. Beh, se gli interessava così tanto poteva stare con lei invece di andare in giro per spogliarelli, no? Io ci tengo a precisare che è la prima volta che vengo in un night, ecco. Non c'è uno di voi in tutti questi anni che mi abbia sorpreso per intelligenza, per vivacità, per un barlume di pietà umana. Insomma, siete la peggiore e più avvilente esperienza che si può augurare a un insegnante. Non è bellissimo? Sì, la campagna è quel posto dove i polli vanno in giro crudi. Cosa hai detto? Baudelaire, l'ha detto Baudelaire. Volete un po'? Fa benissimo. Io l'ho preso, grazie. Sì, cos'è? A quadrato dal cielo. Ma che schifo, ma ti è andato di volta il cervello, tieni. Ma sono un capone, ha ragione di no. Io non voglio avere niente a che fare con te. Eh, chi ci dorme? Io non voglio avere niente a che fare con te.